Estate, sole, riccione, amici. Uno, due, tre, vai! Carina la casa. Cosa fa? Sono bagnino doc. Io sono stato un grande playboy. C'è uno che mi piglia bene. Hai arrivato Flemma? Zio, ti hai chiamato Flemma? Sei un pazzo, zio. Mi piace un sacco. Abbiamo prenotato una doppia a nome Marescali. No, scusa, come una doppia? Avevamo detto due singole. Mi sono scaricato l'app. Non so proprio cosa dirle a una conosciuta così. Disponibile per gli incontri al buio. Fa ridere, cazzo. Ciao, amore. Come stai? Ma non è che poi mi dimentichi? Flemma. Ciro. Ho capito, che ora ti ha detto di controllarmi? No, mi ha detto che se c'è qualcuno che ti punta, io ho la licenza di uccidere, però solo questo. Ciro? Sì? Sì, è che stavo dormendo. Che c'è? Sei esattamente come ti immaginavo. Comunque Riccione è proprio bella. Guarda che glielo dico a Fionato. Uno come te deve stare attento. Camilla è fidanzata. Tu sei una mamma meravigliosa, però ogni tanto ti dimentichi di essere anche una donna. Ragazzi, conquistare una donna è un'arte. Sto impazzendo! Io non so cosa devo fare, lo capisci? Non lo so. Beh, non so che fare. Farle vedere che tu sei l'uomo che lei vuole. A chi non fa paura l'amore? Ti fa paura, no? Ma te ti sei mai innamorato? Io fino a qualche giorno fa non avevo idea di cosa fosse l'amore. Oggi per la prima volta mi hanno detto che sono coraggioso. Mi hanno detto che sono coraggioso perché mi sono innamorato. Mi sa che io dell'amore ancora non ci ho capito a niente. Però secondo me, se vuoi voler ripartire, alla fine non giochi bene. Amate il cinema italiano? Eccovi tre film da vedere. Non essere cattivo, del 2015, di Claudio Caligari, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, adattamento del romanzo di Andrea Ciman. E infine vi consiglio anche Perfetti Sconosciuti, del 2016, con un soggetto originale davvero molto fortunato. Ragazzi, se vi piace la mia maglietta, in infobox c'è il link al nostro shop. Al prossimo video, ciao!